La Rocca Malatestiana è sempre più contenitore, multiculturale e polifunzionale, dove ogni forma artistica, teatrale e musicale trova il suo habitat dove potersi mostrare al pubblico offrendo un calendario di iniziative molto calaidoscopico. Rocca Malatestiana è sempre più moderna nella fruizione, sempre più vicina ai grandi complessi artistico-museali a livello europeo. L'idea è un po' quella delle grandi città d'arte, cioè entrare in un contenitore d'arte, vedere che c'è la bellezza architettonica e consumare l'aspetto della produzione artistica, pittorica. In questo caso è originale la presenza delle cellette. Ecco, lì abbiamo la mostra inedita dei corsaletti. A partire dalla settimana prossima, dal 16 luglio fino all'11 di agosto, prende il via uno dei festival organizzati per questa stagione. Un festival che ha come tema centrale l'umorismo, la comicità, passando dalla cabaret e da un spettacolo del San Costanzo Show alla filmografia nazionale con il film di Gabriele Salvatores e dei comici anche del San Costanzo Show. Ad aprire la Kermesse, appunto, la loro allegra brigata. Siamo molto contenti, è una bellissima cornice dove fare gli spettacoli, il San Costanzo Show al completo, tutta la formazione siamo in sette e presentiamo due spettacoli. L'ultima produzione che è Giro del Mondino 80 minuti, la produzione di quest'inverno sarà il 10 agosto con una coda dopo lo spettacolo. Il 16 luglio, quindi tra poco, c'è Amici di mia zia, una vecchia produzione che abbiamo rispolverato per l'occasione con, anche lì dopo lo spettacolo, una coda, fare un po' di balli. Poi c'è anche, dopo ad agosto, la visione del nostro film che è Stregati dalla Bruna. Ma il taglio voluto dagli organizzatori, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano, è anche nazionale. Dopo Guido Catalano, il mercoledì 17, porterà in scena il suo recital Tu che non sei romantica, arriva uno dei mattatori della trasmissione radiofonica cult di Radio 2, Il Rugito del Coniglio, che porta Max Paiella a Fano, oltre ai suoi quadri. In esposizione nelle cellette della Rocca, si esibirà in un omaggio ad una voce di grande impatto emozionale, quella del grande Renato Carosone. Oh belli, adesso sta piovendo, ma il 18 luglio c'è una cosa importante lì a Fano, eh? Insomma, dai, più o meno, il fanese lo spicci, va a video lì vicino l'estate. Dicevo, il 18, il 18 di luglio, adesso come vedete piove, ma non pioverà sempre, tra un po' arriva un caldo di quelli pazzeschi. Il 18 di luglio a Fano, alla Rocca Malatestiana, uno dei posti più belli al mondo. Che cosa ci sarà? Uno spettacolo, il mio, insieme a Anema, Anema chi sono? Un gruppo, all'Anema del gruppo, e faremo uno spettacolo su Carosone. E oltre allo spettacolo su Carosone ci sarà prima un aperitivo, e poi un'esposizione dei miei disegni, eh sì, perché disegno pure. Dici, perché disegni? Potevi cantare? Eh certo, canto pure. Potevi cantare, potevi presentarsi? Sì, presento pure. Anema, piccolissima serenata, più i miei disegni, Max Payet, insomma, tutte queste cose, il 18 di luglio, alla Rocca Malatestiana a Fano.